benvenuti in questo unissimo video di pro stars un nuovo gioco scaricato e sono già qui da poco sblocco questo qui poi sblocco anche tanti altri, proviamo la nuova modalità, non so com'è, i ricercati, ricercati si chiama, non so qual è non so cosa si fa, ora abbiamo due vite, sto lì nel mio cello, due vite, sono già morto, un'altra vita, una connessione ok ho tre vite, ho tre vite, questo qui leggero, colto leggero, aiuto colto, tengo dietro, questo dov'era, questo, questo qui dov'era ho iniziato, ora ok riuscivolo, tutto mi scondo potre stelle potre stelle ahia ok va bene stiamo vincendo pure proprio vincendo quindi pure, è come a raffodem rinano tutti tanti potre stelle un'altra è così che bella ragazzi bella bella sembrita comunque vedo un po che sto facendo due video scusate perchè non potevo e quindi sono ritornato oggi con bro stars che li sta facendo e voglio bloccare tutti gli personaggi uno youtuber che io seguo qui ha finito ha finito tutto il gioco poi c'è anche leon a tutti questi ok ora facciamo l'altra subito mi piace questa minorità a quanto pare mi piace ragazzi che ci sono stupendo che ci sono stupendo che ci sono stupendo non so ok disegnerò e ci sono 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 che bello faccio un gioco scinta ragazzi sono scintato e ci sono sconosciuto il secondo e mi ricordo che più si chiama scantino e Sara no Sara no attraverso l'altra allora si chiama cazzo no non ricordo questo è il secondo non voglio perdere stiamo vincendo non 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 no 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 Ciao Piero qui! E la mia cesta è tutta la partita Ragazzi sono migliore Ragazzi è tutta la partita Mi commenti Ho registrato? Certo sto registrando Ragazzi scusate Ragazzi 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 Ci dobbiamo dare una calmata Qui è abbastanza Chi è abbastanza Questo Qui è abbastanza Qui è abbastanza Chi 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 è abbastanza È un'altra come ben detto guarda 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 non alab Restorment è vero non 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 si c'è un meon non è che la brucia la gemma questo non è vero questi brutti problemi questi sono problemoni è lì, è riuscita io ho scelato lei, proprio lei sai, proprio lei mi cercare voglio andare a cercare questo è possibile giusto attivato vado, scelto 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 ora ci fai ammazzate con il culo lì bravi, bravi vai vai, scenditi dietro scelto 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 Non mi scoperto, non mi vero, non mi vero. Gatti! Gatti, ti to! Gatti, ti to! Ok, ora ragazzi Facciamo ancora un po' di... Wow Facciamo ancora un po' Sì, queste partite fantastiche sto Che faccio un po' di io Perché sono tutte fantastici Certo, veramente Ok, ora ragazzi Vado 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 v 3-0, 4-0, 4-0, 4-0, 5-0, 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 6-0, 3-3, 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 4-3, 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 4-3 Cuda? 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 Ehi? E non bisogna dire che? Cosa vuoi? Oh, che suoi io? Ragazzi sono un nabo E con un po' Un nabo Un nabo ragazzi iscrivetevi al canale se tu mi piace questo video assolutamente se non lo fate viene rosa a casa vostra decide se lo avete bastato e non ci va mai più vincere una partita vado qui deve essere camper lo dice deve essere camper lo dice deve essere camper camper io posso spostare che camper è così è scrivo scrivo difendo difendetevi no ecco 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 a quanto pare è bellissimo un due un cugino poi poi con il primo io solo io molto il primo arriva uno è il primo 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 non farò mai più se robe è il primo 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 Ok, io credo che non posso andare via da me, e io credo che non posso più stare qui, ma credo che non si può mai più stare qui. Non credo che io non posso andare via da me, e io credo che non posso più stare qui, ma credo che posso andare via da me, e io credo che non posso più stare qui. È sì che ci ho jours qui, ma credo che mi permita la guarda non bisogna. No, lo fai, lo fai, lo fai, lo fai, lo fai, lo fai, così, pranzico, uccidiamo, uccido, 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 uccido Parezzo Quindi Non c'è da niente Ma ragazzi è strano Ma riparezzo Aspetta un po' Io ho già il filtrato E' il primo Ok guarda Devo stendire Guarda 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 Ok Non c'è problema Fotto atto Devo uscire uno No Uno appena tanto No Vabbè Non me lo bisogna Bisogna Quello Ascondite Non so Non so Capaccio Di nessun nome Te camper Perché Te ne hai due Cinque Ne hai cinque Più sette L'altro Ne hai due Devo uscire uno I Baby Ho Tri come per bravo, bravo, silly bravo, bravo, bravo bravo, fai bravo, bravo forse anche questa la vinciamo forse anche questa la vinciamo la vinciamo almeno almeno questa la vinciamo questa abbiamo vinta, eh oh, è migliore è migliore ah, ho capito ho capito non ho non ho, non è, non è un'immigliore è migliore esci quando pare Quando pare, quando pare, è una figata. Allora, scrivete nei commenti Quando Quanti Tu sei Avete Se non lo sapete Se non avete neanche mostanze Avete capito Che mi crede Ah Un botte Ah Ho capito ora Hai abbandonato la squadra Come rega Ragazzi Scrivete nei commenti Se non sta Vi piace Se sono Poi Poi Non ho capito Fum Si raccomando Scrivete nei commenti Scrivete nei commenti Scrivete nei commenti Scrivete nei commenti Ciao! Si. bella sabatesa Stiamo vincendo una grande Allora dai se sto a vuoi fare gli odi sono fuori Sì, è un po' più difficile Sì, è un po' più difficile Vabbè, vabbè È da due o venticini, non è certo dai Io, io però non gioco, vabbè Cioè, vabbè, io non lo dico Ragazzi Ciao E troppe persone si stanno Per evitare i miei problemi Infatti, quindi mi devo filmare Quindi, ciao ciao